La lista civica Una città in comune di Enzo Belloni ha presentato il suo programma elettorale in vista delle amministrative di giugno, vari i temi trattati dai giovani agli anziani, passando per ambiente, opere pubbliche e sanità. Il benessere del cittadino è la prima cosa, è la base di partenza per tutti quelli che sono i problemi relativi al sociale, alla sanità, alla piccola manutenzione. È una città che ha fatto tanto, ci sono tanti cantieri in corso e tanti verranno inaugurati nella prossima legislatura, quindi chi arriverà dovrà avere un occhio particolare alle piccole cose e alle piccole manutenzioni che sono quelle che colpiscono al cuore i pesaresi. Ci sono temi importanti come i giovani e gli anziani che ovviamente sono in tutte le compagini che si presentano alle elezioni. Lo sport, il benessere e la natura sono quelli che in qualche modo ci faranno vivere anni migliori. Andiamo incontro a momenti di grande difficoltà, su tanti temi, nei quali l'amministrazione comunale deve prendere posizione. quello dei rifiuti, primo, perché non voglio parlare della discarica dei ricerci, però chi amministra la città più grande del capoluogo è il capoluogo di provincia, è la seconda città delle Marche, deve prendere posizione anche rispetto alle politiche dei rifiuti. Altro tema è quello dell'acqua, vendremo nei prossimi anni, anche questo sarà un tema difficile, un tema strategico nel quale si può stare senza mangiare 40 giorni, ma senza bere non si può stare, senza lavarsi non siamo abituati, quindi bisognerà fare scelte anche difficili dal punto di vista politico, per certi versi, però scelte strategiche è importante, dobbiamo pensare ad avere invasi piccoli, medi, grandi. Altro tema ovviamente scopriamo l'acqua calda e quello della sanità, il sindaco è responsabile della salute dei cittadini, quindi dobbiamo essere pronti a tutto per difendere la sanità pesarese, per dargli dignità e per dare risposte ai cittadini che siano risposte facili, veloci e soprattutto decisive per quello che è la salute dei pesaresi, non solo perché quello della sanità sarà un problema non solo cittadino, ma regionale e nazionale. Una lista, quella di Belloni, che lascia ancora le porte aperte ad eventuali candidati. L'importante è che ci sia sintonia con il programma di una città in comune. Noi siamo una lista civica, nelle liste civiche si ospitano sensibilità differenti, no? C'è magari chi voterà l'europea per il centro-destra, chi è europea voterà per il centro-sinistra, chi voterà per i partiti di centro, quindi essendo una lista civica che si deve preoccupare dei problemi della città in maniera diretta, noi siamo disposti ad accogliere tutti quelli che condividono il nostro progetto. Poi all'europea c'erà un libri tutti, alle regionali o alle nazionali, idem. Il progetto Una città in comune che si consolida, diciamo siamo alla terza legislatura che andremo ad affrontare, ci auguriamo di essere forza di governo anche per i prossimi cinque anni, è una lista che accoglie sensibilità differenti, ovviamente quello che conta non è l'appartenenza politica ma sono le idee, lo spirito e l'entusiasmo che ci mettiamo per riuscire ad ottenere un risultato importante.